Cari telespettatori, buonasera, come ogni lunedì ci ritroviamo in diretta dagli studi di Fano TV per Primo Cittadino e oggi abbiamo come ospite un sindaco che partecipa per la prima volta. Do il benvenuto ad Andrea Giuliani, sindaco di Coglio al Metauro. Buonasera. Buonasera Simona, grazie e buonasera a tutti i telespettatori. Ricordo come sempre i numeri di telefono per intervenire in diretta 0721 86 14 33 oppure un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco cominciamo subito e ripercorriamo un attimo quello che è successo in questi ultimi mesi perché da quando Stefano Guzzi, appunto ormai ex sindaco di Coglio al Metauro è stato nominato assessore regionale, lei ha preso le redini. Quindi richiedo subito come sono stati questi primi mesi anche perché è in carico ufficialmente se non ricordo male dall'11 di novembre. Quindi davvero poco. Sì, certamente l'esperienza con Stefano Guzzi al fianco di Stefano è stata sicuramente un'esperienza gratificante, arricchente. Noi abbiamo cominciato quattro anni fa quasi con tante tante idee, una realtà, venivamo insomma, ci siamo insediati in un momento molto particolare per Coglio al Metauro che usciva da un processo di fusione veramente combattuto, difficile, ci siamo messi, come si dice, ci siamo rimboccati le maniche, le persone cosiddette di buona volontà e sotto la guida insomma esperta di Stefano che ci ha fatto molto lavorare, ha anche dato fiducia, oggi abbiamo fatto un cammino importante e personalmente anche io ho potuto, sono potuto crescere un po' diciamo sulla sua scia. Oggi a distanza di pochi mesi insomma da questo avvicendamento, certamente posso dire che l'esperienza di rappresentare un comune come primo cittadino è un'esperienza enormemente gratificante anche se faticosa, però per chi come me ha un alto senso dell'istituzione e penso sia il massimo che un cittadino veramente, l'esperienza principale che un qualsiasi cittadino a quale un cittadino può ambire. Dedicarsi interamente alla propria città, al bene comune, però lei lo ha fatto in un momento molto delicato perché in piena emergenza sanitaria. Sì, certamente il momento non è semplice, però dico sempre non è semplice per nessuno, probabilmente noi siamo semplicemente una di quelle categorie, quella degli amministratori che sicuramente è più nell'occhio del ciclone, ma non dimentichiamo E anche tante responsabilità. Tantissime responsabilità, però non dimentichiamo insomma tanti imprenditori, tante persone che magari hanno difficoltà sul mondo del lavoro, nella quotidianità. A loro va sempre il nostro pensiero di amministratori. Quali sono le azioni che avete messo in campo per fronteggiare questa emergenza, non solo sanitaria ma anche economica? Penso allo screening, penso ovviamente in collaborazione con l'Asur eccetera, penso anche a buoni spesa. Sì, l'amministrazione si trova un po' in un punto diciamo strategico tra governo che ovviamente a livello nazionale sta cercando di fronteggiare nel migliore dei modi questa pandemia fin dal marzo scorso. E chiaramente noi siamo un po' l'anello di congiunzione tra il governo centrale e il territorio. Di conseguenza ce la mettiamo tutta per essere vicini ai nostri cittadini. I buoni spesa sono un esempio insomma di risorse che vengono dal governo centrale e che noi riusciamo a veicolare sul territorio secondo dei criteri che cerchiamo di rendere insomma più omogenei, più giusti, più corretti possibile. Poi ci mettiamo anche del nostro, oltre alle somme che sono state stanziate dal governo centrale sia nella prima ondata che in questa seconda abbiamo integrato con risorse proprie dell'ente 50.000 euro nella prima mandata mi pare e altrettanti in questa seconda, no 30.000 scusa la prima ondata 50.000 in questo ultimo mese e sicuramente siamo riusciti insomma a sostenere le difficoltà quotidiane di tante persone. Certamente è una piccola, è un piccolo contributo. Poi abbiamo cercato di sostenere le attività per esempio con la riduzione, con il cancellamento, la cancellazione. L'avete proprio azzerato, no? Sì, azzerato la TOSAP e ci siamo insomma accordati per ripetere questa misura anche nei primi mesi del 2021 2021 e così come la riduzione della quota variabile della Tari, sono tutti piccoli segnali. Poi ovviamente il momento dello screening è stato un momento molto importante per il nostro territorio. E ricordo dovremmo avere anche delle immagini perché siamo venuti il giorno prima, se non ricordo male, quando stavate preparando tutti gli ambienti e il materiale per eseguire questi test. L'adesione ricordiamo qual è stata? Beh, hanno partecipato circa 2.860 cittadini, quindi circa il 19% che è un po' la media che si è registrata anche negli altri comuni e nel territorio provinciale. Mi pare che ci siano stati circa 14 positivi in tutto, che sembrano pochi, ma in realtà sono poche persone che siamo riusciti comunque, asintomatici positivi che siamo riusciti a tracciare e comunque limitare. Chiaramente, come si dice sempre, questi screening hanno un valore di fotografia del momento e quindi noi auspichiamo che in futuro possono essere ripetuti e chiaramente la disponibilità della nostra amministrazione è sempre massima per queste cose. Invece per quanto riguarda i buoni spesa ci tenevo a dire un'altra cosa particolare perché comunque ci sono delle attività convenzionate, quindi dei soldi che poi vanno a finire sul territorio. Sì, in questa seconda misura ondata, chiamiamo come si dice un po' in gergo, siamo passati attraverso l'ambito territoriale che ha strutturato questi buoni spesa sotto forma di tagli fissi, 250 euro i buoni per i nuclei familiari di una persona, a salire di 100 euro ogni persona in più, fino ai 650 euro per i nuclei familiari di 5 o più persone. Da spendere ovviamente in esercizi convenzionati. C'è stata una bella adesione anche da parte delle attività? Sì, abbastanza, abbastanza. Poi siamo riusciti anche a variegare insomma il panorama dell'offerta, per cui insomma penso che ognuno dei beneficiari di questi buoni spesa abbia potuto tranquillamente trovare il meglio per spenderli. Prima di iniziare a parlare dei lavori pubblici, insomma di tanti altri temi, abbiamo già qualcuno che vorrebbe parlare con lei. Sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Buonasera, ci sente? Sì, sì, lo sento. Il sindaco è qua che l'ascolta, prego. Sono Spadoni Vinicio di Tavernelle, Coglie al Metauro, abito vicino a Carifano, sulla piazza, no? Sì. La piazza lì, Doratori del Sangue. Sì, sì. Prego, faccia pure questa segnalazione se vuole chiedere insomma informazioni. Sì, ma lì, con i bui immondizi, non facciamo tempo a farla portare via che la gente corre rimettere tutta l'ammondezza fuori, sacchetti a non finire. Parla delle isole ecologiche o davanti a casa? È una sozzeria che mette paura. Avevamo il porta a porta e sulla carta, prima rimaneva pulito, dopo che è stato tolto il porta a porta, non abbiamo più... Stiamo pagando e non usufruiamo di questo porta a porta. Vorrei sapere anche perché ha tolto soltanto il comune di Cerongherina e a Montemagione no. È possibile? Certamente. Grazie. Che cosa è successo? Come mai è stato tolto questo servizio? Ringrazio il signor Vinicio della domanda che mi dà l'opportunità insomma di spiegare quello che è stato un po' il nostro approccio per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, in pratica, sistemi di raccolta e rigida ambientale. Noi abbiamo ereditato, un po' come è successo un po' in tutti i campi, tre comuni che avevano tre sistemi di raccolta diversi. Uno assolutamente particolare che è quello porta a porta che c'è a Montemaggiore, porta a porta su tutte le frazioni, mentre gli altri due ex comuni, quindi Saltara e Cerongherina di fatto differivano soltanto per la raccolta della carta che a Cerongherina, come dice giustamente il signor Spadoni, era in porta a porta. Quindi nell'ottica di uniformare quelli che sono un po' i sistemi di raccolta abbiamo fatto il primo passo che era quello un pochino più semplice che è quello di uniformare la raccolta di Saltara e di Cerongherina, appunto togliendo il porta a porta della carta. Ma l'abbiamo fatto non con leggerezza, bensì anche seguendo le indicazioni che ci vengono un po' dal mercato, dal panorama in generale della raccolta dei rifiuti. Perché la raccolta della carta è una tipologia di attività molto pesante. Esatto, quindi alla fine in realtà la percentuale soprattutto di purezza della carta all'interno dei contenitori stradali è comunque molto alta, perché comunque la carta è una frazione merceologica che la gente comunque raccoglie, separatamente raccoglie bene. Il discorso che poi vengono abbandonati fuori dai rifiuti, dai contenitori, purtroppo è una forma di maleducazione, Un po' di inciviltà, un po' di inciviltà, ed è un po' il problema delle isole ecologiche. Certamente mi viene da dire che il porta a porta integrale su tutte le frazioni ha un occhio, praticamente di fatto toglie le isole ecologiche dal territorio e questo potrebbe essere, diciamo, visto sicuramente come un lato positivo. E certamente noi l'abbiamo guardato, guardiamo con interesse a questo discorso del porta a porta integrale, che è un modello, diciamo, ideale, al quale a me piace pensare in particolare, insomma, come è esteso a tutto il territorio. Chiaramente però in questi anni il mercato è cambiato, anche il panorama della raccolta, ci siamo, andando a convegni sul settore, ci siamo resi conto che effettivamente non esiste un modello di raccolta ideale che funziona dappertutto, su tutto il territorio italiano. Ogni territorio è un po' a sé stante, per cui andrà sviluppato un sistema di raccolta unitario che tenga conto di tante particolarità. Noi abbiamo un progetto molto importante, molto particolare e specifico su Colli al Metauro, che prevede, per esempio, almeno sulla casa, in teoria, insomma, abbiamo ragionato in questi termini, porta a porta sulle frazioni più popolose, densamente popolate del Fondovalle, e magari raccolta di prossimità con isole ecologiche, poche isole ecologiche, automatizzate, recintate e videosorvegliate, che possono appunto limitare il discorso degli abbandoni fuori contenitore. Pensando addirittura a forme di compostaggio di comunità, di prossimità nei borghi più lontani, come Pozzuolo e Solungarina, che possono essere veramente un importante anche veicolo per far tornare ad abitare in questi borghi le persone, perché comunque noi abbiamo portato in questi... Si stanno anche spopolando un po'. Esatto, si stanno spopolando, ma noi siamo assolutamente convinti che abbiamo portato, per esempio, la banda ultralarga in questi, sia a Pozzuolo che a Barni e a Solungarina. Se noi pensiamo che oggi una famiglia può tranquillamente lavorare da casa, con le dotazioni tecnologiche più avanzate, e ci portiamo anche la comodità di servizi particolari che possono far riscoprire alle persone un modo di vivere alternativo, di nuovo un ritorno un po' nella tranquillità di questi borghi, noi siamo convinti che questi borghi possano vivere una nuova giovinezza. Le chiedono, Sindaco, la rotatora all'uscita della superstrada a direzione Marimonte a Calcinelli, quando verrà conclusa? I lavori sono attualmente in corso, proprio oggi pomeriggio stavano asfaltando un ulteriore piccolo pezzo, una piccola porzione, lì i lavori sono in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la rotatoria. In realtà l'intervento è un intervento ben più completo, più complesso e più completo, perché prevede anche l'asfaltatura di via Ponte Metauro e il rifacimento dei marciapiedi della pubblica illuminazione. E tra l'altro anche molto trafficata quella strada. Assolutamente, sì, sì, sì. Devo dire che abbiamo raggiunto, grazie anche all'impegno al suo tempo di Stefano Guzzi, un ottimo compromesso con la provincia, che in questo caso ha fatto da stazione appaltante, e diciamo che rispetto alla quota di compartecipazione economica che si era ridotta, in più ha messo la parte di asfaltatura di via Ponte Metauro, che ormai ha bisogno, e il rifacimento dei marciapiedi della pubblica illuminazione, quindi mettendo in sicurezza un'area molto importante per Calcinelli in particolare. E ovviamente prima di questi lavori abbiamo interpellato Marche Multiservizi ed Enel, e ci siamo riusciti a rifare tutti i sottoservizi in maniera tale che per molti anni avremo la possibilità di non reintervenire. I lavori quando potranno concludersi? Sicuramente nei prossimi mesi, ormai penso prima dell'estate ci arriveremo alla inaugurazione. Inerente al piano asfaltature vorrei ricordare anche la zona di Borgaccio, esattamente la via traversa di via Sacca. Facciamo un punto sulle asfaltature, avete già inserito le vie che necessitano di più nel prossimo piano? Noi fin dall'inizio abbiamo investito parecchio nelle asfaltature, pensate che l'intervento che sta per partire di 500 mila euro è addirittura il terzo dall'inizio della nostra amministrazione, quindi abbiamo asfaltato strade per oltre milioni di euro, quindi abbiamo asfaltato strade anche molto importanti, via dei laghi, via del progresso, che ormai da anni giacevano in condizioni veramente critiche e sono di fatto dei biglietti da visita per il nostro comune, perché vanno nelle zone artigianali, zone industriali. È venuto anche il momento di asfaltare strade cittadine molto importanti, l'abbiamo già fatto con Via Belvedere, quella che sale da Calcinelli verso Saltara, con un ottimo impatto insomma anche nella popolazione. Ma non ci dimentichiamo certamente di tutte quelle che hanno bisogno, abbiamo un elenco ben dettagliato in comune, di volta in volta in base alle cifre che riusciamo a stanziare a bilancio, riusciamo a fare un bel piano di asfaltature, quindi questo è importante. Sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera signora, io chiamo da Saltara. E vorrei comunicare al sindaco Giuliani alcune situazioni annose che si sono verificate qua a Saltara. Sì. Ex comune. Che cosa è successo? Niente, è successo che questo paese, una volta all'avanguardia nella valle, è stato depauperato di ogni servizio, dalle banche al bancomat, all'ufficio postale, all'ufficio scolastico e poi vorrei anche aggiungere una situazione vergognosa per ciò che riguarda la viabilità del paese. Ad esempio, la strada comunale che congiunge Saltara-Cartoceto è diventata una vera e propria tangenziale ad alta velocità, è stata messa una civetta che non funziona, per cui la situazione è insostenibile. Specialmente nel sabato, nel domenico, sempre, anche al mattino quando la gente va al lavoro. Io non sono mai riuscita ad avere una risposta a queste situazioni. Il sindaco Aguzzi allora mi aveva garantito un bancomat, perché saltare bene che si sappia, ci sono molte persone anziane che non guidano. E quindi anche una questione di comodità. È possibile fare concretamente qualcosa, sindaco? Certamente, comunque grazie per la domanda. Bancomat è una situazione che noi abbiamo affrontato, come ha detto giustamente la signora, insieme al sindaco Aguzzi eravamo riusciti a ottenere anche dalla banca, che un po' ci fa la tesoreria comunale, l'occasione, cioè l'assenso all'intervento, purché noi ci facessimo carico delle opere edili, diciamo, e della realizzazione della sede. E questa noi l'avamo fatto. Quando è stato il momento di firmare il contratto, questa banca si è tirata indietro. Quindi c'è stato un momento di impasse. Oggi abbiamo pensato, proprio perché riteniamo il bancomat, come dice giustamente la signora, un elemento molto importante per Saltara, perché comunque Saltara, pur essendo piccola, ha delle attività di rilievo, penso per esempio al forno, che comunque produce prodotti di qualità che sono conosciuti in una zona molto ampia. Per cui il bancomat è sicuramente una cosa molto importante. Adesso faremo una gara tra istituti di credito e siamo convinti di trovare una risposta, magari, forse probabilmente negli istituti di credito che almeno magari pensiamo, magari fino adesso ci siamo limitati un po' alle banche del territorio pensando ci fosse un interesse. Questo interesse di fatto non c'è, chiaramente l'amministrazione non può fare granché. Approfitto invece per quanto riguarda l'ufficio postale, di pochi mesi fa, una lettera che io ho scritto personalmente alle poste italiane, per non solo segnalare la questione critica che registriamo spesso al mattino davanti alle poste di calcinelli, ma anche per richiamare la possibilità, insomma, di potenziare i servizi postali anche riaprendo quegli uffici che magari erano periferici. Purtroppo, chiaramente, non abbiamo avuto risposta, siamo convinti che magari l'abbiano letta, però ecco, quello che può fare un'amministrazione è veramente limitato. Può spingere, può incentivare, insomma, chiedere, ma poc'altro. Invece per la strada Saltara Cartocetto le chiedo anche per chi hanno telefonato o regia, per il traffico in Viale Matteotti. Quindi, insomma, se si può fare... Allora, il traffico, andando in ordine, dando priorità certamente alla strada, ho capito di quale si tratta. È vero, le problematiche che evidenzia la signora sono assolutamente reali. Il limitatore di velocità che è stato inserito, è vero che non funziona sempre, però è una... funziona da... deve servire da deterrente, perché a rotazione queste civette, chiamiamole così, questi contenitori, ospitano il... diciamo, l'apparecchio per... Per rilevare la velocità. Per rilevare la velocità. Quindi, se posso dare un consiglio a tutti gli automobilisti... Sono attivi in quel... cioè, ad oggi, perché c'erano stati dei problemi, non potevano essere attivati... Sì, sì, adesso noi abbiamo una convenzione dei vigili urbani con Fossombrone, quindi... Quindi bisogna fare attenzione, altrimenti arriva la volta a casa. Io consiglio sempre l'attenzione, insomma. Quindi, certamente, ecco, quello che si può fare l'abbiamo fatto, anche migliorando un po' la qualità dell'asfalto, anche se in condizioni, specialmente durante l'inverno, in condizioni di asfalto sdrucciolevole, la situazione è abbastanza pericolosa, perché comunque è una strada a forte pendenza. Però, ecco, insomma, noi l'attenzione certamente c'è, non è che possiamo limitare il traffico. Per quanto riguarda, invece, via Matteotti, certamente c'è una situazione un po' di pericolosità, perché all'arrivo in piazza, soprattutto o dalla discesa di Cartoceto, o in salita, da calcinelli, certamente le macchine tendono ad arrivare con una velocità abbastanza sostenuta. E poi lì il rumore è molto alto perché ci sono i sanpietrini. Però, diciamo, riprova anche dell'interesse che c'è di questa amministrazione per queste problematiche. Per esempio, nel Pilgal, cioè nel progetto che abbiamo inserito, nel progetto integrato locale, che prevede la realizzazione di un'area sosta camper fuori dalle mura di Saltara e un percorso pedonale che arriva fino in centro, abbiamo previsto anche delle barriere, diciamo, di protezione proprio per creare un percorso protetto per i pedoni e anche per le abitazioni che insistono proprio sulla piazza. Cerchiamo, se riusciamo, Sindaco, a fare un po' di risposta perché ci stanno arrivando tantissimi messaggi e vogliamo accontentare i telespettatori. Buonasera, si è parlato della rotatore di Calcinelli e anche quella di via di Ponte Metauro. Ma si è pensato allo svincolo prima del semaforo direzione Monte che a semaforo rosso blocca l'uscita dalla superstrada rendendo anche la rotatoria inutile? La rotatoria non sarà inutile. Certamente risolverà parecchi problemi soprattutto per l'immissione dalla superstrada in direzione verso Monte Maggiore che, diciamo, statisticamente abbiamo visto è un volume di traffico molto rilevante per le persone che vengono dalle vallate del Cesano da Mondavio, da queste zone qua e vanno verso Fano e quindi la sera tornano dal lavoro. Certamente ne creerà altri perché la rotatoria creerà un elemento di novità che prima non c'era. In più, un elemento particolare è che oggi si può svoltare dall'uscita della superstrada a destra su Via Caduti della Libertà cosa che in futuro non sarà possibile e quella rotatoria si creerebbe un'interferenza molto pericolosa. Per cui certamente quando si andrà ad attivare la rotatoria lì si andranno ad attivare tutta una serie di sensi unici comunque si andrà a ripensare Quindi cambia la viabilità Sì, abbiamo già allo studio diverse ipotesi anche con esperti del traffico e di concerto con la polizia locale che in questo frangente è veramente ludevole soprattutto come impegno e certamente sapremo trovare la soluzione Poi io dico sempre che le persone e i cittadini sono i migliori tester alla fine ci faranno un po' capire quali sono le soluzioni più importanti e più efficaci anche con un'ottica anche in visione delle zone artigianali che ci sono in Via Ferrara per esempio o in Via dei Laghi Andiamo avanti con i messaggi vorrei sapere se a Villanova di Colle al Metauro e precisamente in Via Vallato sono previsti dei lampioni ci scrivono è una zona abitata anche da famiglie con bambini ma completamente immersa nel buio e quindi anche la strada di conseguenza risulta pericolosa Quindi Via Vallato abbiamo lo studio adesso me lo segno perché è tutto a memoria non ci riesco a tenere ancora però abbiamo lo studio diversi interventi anche nella frazione di Villanova mi riferisco in particolare ai nuovi marciapiedi che presto verranno realizzati per collegare l'attuale rotatoria al centro abitato adesso Via Vallato sinceramente di preciso non mi ricordo dov'è però adesso mi sono preso nota di questa segnalazione e certamente andremo a verificare se è possibile ampliare e risolvere questa problematica particolare Buonasera alla Scuola Dezzi di Saltara quando verrà finita? Perché mi sembra che vada un po' per le lunghe La Scuola Dezzi è un importante intervento edilizio certamente quello a cui noi per primi teniamo particolarmente perché quella scuola rappresenta non solo un ritorno a casa per tanti ragazzi che oggi sono diciamo tra virgolette parcheggiati a Via Marconi a Calcinelli ma soprattutto perché quello spostamento dei ragazzi nella scuola rinnovata peraltro il progetto è veramente bello quindi non vediamo l'ora sinceramente di inaugurarlo certamente permetterà a questo comune di fare veramente il salto di qualità perché riuscire a portare i ragazzi a scuola nella sua nuova scuola libererà la sede di Via Marconi che deve diventare il punto nevralgico e la sede unica del nuovo comune del comune di Collia Metauro cosa che fino adesso Possiamo dare delle scadenze sindaco? È difficile anche perché questa pandemia rallenta un po' dal punto di vista burocratico i lavori? Non solo burocratico ma anche dal punto di vista delle imprese delle forniture delle forniture dei materiali l'impresa che sta lavorando è obiettivamente in ritardo su quello che è il cronoprogramma però ancora siamo all'interno dei tempi contrattuali per cui ecco stiamo monitorando da vicino la situazione devo dire che abbiamo una grossa collaborazione da parte dell'impresa quella titolare del contratto e come vedete appunto dicevo appunto come vedete dalle immagini l'intervento è veramente bello e ci auguriamo di finirlo quanto prima perché poi caratterizzerà Ma per il prossimo anno scolastico fra due? Ma noi il nostro orizzonte ovviamente è quello di settembre 2021 cioè far partire i ragazzi nella nuova scuola certamente quello è il nostro obiettivo Bene davvero un bel progetto vedevamo il rendering poco fa sindaco abbiamo davvero tanti messaggi però ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità a tra poco Siamo tornati in diretta allora sindaco andiamo avanti chiedono informazioni sulla copertura della Bull alla banda ultralarga se si può fare qualcosa sulla mancata copertura a Tavernelle hai informazioni in merito? Ma adesso dunque posso dire diciamo in generale i lavori nell'ex municipalità di Serongarina e in quella di sono attualmente in corso perché quella l'ex municipalità di Montemaggiore e di Saltara sono state completate tant'è che siamo stati il primo comune nella provincia di Pesorurbino a vedere completati i lavori e il secondo nelle Marche quindi un bel traguardo per noi Serongarina invece i lavori Serongarina faceva parte di una fase 4 dal punto di vista dei lavori che significava partire molto più in ritardo siamo riusciti ad anticiparla alla fase 2 quindi in continuità con Saltara e Montemaggiore e quindi sono attualmente in corso perché Serongarina diversamente dagli altri due presenta notevoli criticità dal punto di vista delle emergenze archeologiche quindi la sovrintendenza essendoci vicino alla Flaminia praticamente che ha un trascorso romano ovviamente quindi diciamo hanno delle i tempi sono molto più lunghi perché devono fare continuamente saggi di tipo archeologico e questo diciamo allunga notevolmente i lavori per quanto riguarda invece la copertura specifica devo dire e sottolineare lo dico sempre ma è importante farlo anche dirlo in questa sede i lavori di Lungarina e di Saltara sono lavori diversi diciamo per impostazione rispetto a quelli di Montemaggiore perché mentre a Montemaggiore c'era copertura completa essendo una zona completamente bianca dal punto di vista della banda Selungarina e Saltara erano in parte già coperte dai principali operatori telefonici diciamo nazionali quindi Telecom Vodafone quindi sono un po' più complessi esatto quando Open Fiber ha vinto a livello nazionale il piano per la banda ultralarga chiaramente questi operatori si sono fermati però Open Fiber che è la titolare della banda ultralarga può andare a coprire soltanto le parti cosiddette aree bianche quindi si creano purtroppo delle sacche tra virgolette dove da una parte Open Fiber non arriva e invece magari gli vecchi operatori si sono dovuti fermare per cui magari c'è solo una canalizzazione ma non c'è la fibra dentro per cui certamente io immagino e penso sono certo anzi direi che il mercato va talmente veloce in questa fase in cui anche gli operatori non si faranno sfuggire l'occasione di mettersi al pari Allora spero che nel programma Asfaltature ci sia anche Via Le Brecce che attende da 30 anni insomma il pezzo dopo il sottopasso e quindi questa è una segnalazione per lei così come in località Beato Sante attendiamo l'illuminazione pubblica e quindi si può far sapere qualcosa in merito a proposito di illuminazione i lampioni di Borgaccio quando pensa di cambiarli perché insomma si stanno rovinando è pericoloso cerchiamo di fare un attimo il punto illuminazione asfalti dicevamo prima Allora per quanto riguarda appunto le vie specifiche magari dopo prenderò noto di tutte le varie segnalazioni che sono arrivate dire gireremo grazie e invece per quanto riguarda Borgaccio raccolgo appunto la segnalazione però ci tengo anche a dire che stanno per partire è stato provato a fine anno il progetto per i marciapiedi che collegheranno la frazione di Borgaccio a Tavernelle zona Flaminio è un intervento che avevamo previsto fin dall'inizio del nostro mandato elettorale per cui siamo ben contenti di poter dire che oggi il progetto è fatto e stanno per essere appaltati i lavori in quell'occasione certamente non sarà solo una messa in sicurezza con i marciapiedi ma ci sarà anche il rifacimento della pubblica illuminazione e se c'è qualche lampione da cambiare vedremo in fase di esecuzione dei lavori magari di poter estendere l'intervento un caro saluto all'amico Andrea gli chiedo a che punto è la realizzazione della pista ciclabile in funzione anche degli stanziamenti europei in scadenza pista ciclabile immagino che si intenda la pista ciclabile sulla valata del Metauro penso proprio di sì non lo sta precisando ma credo che si riferisca a quello dunque in questi giorni si stiamo vedendo anche con i vari sindaci per cercare di capire come magari proporre qualcosa di interessante per quello che è un po' il famoso recovery plan non vogliamo farci trovare certamente impreparati anche se siamo un piccolo territorio per cui tra le tante discussioni che si fanno si fanno anche discorsi di ampliamento di quella che è la ciclabile valliva classica Fanurbino di cui tanto si parla certamente noi sappiamo per certo che sono stati stanziati i soldi per fare il tratto che va da Fano fino proprio a Colle al Metauro fino a Tavernelle e noi contiamo insomma di vedere presto realizzata quell'opera che secondo noi ha un valore strategico non indifferente abbiamo un'altra telefonata per lei buonasera buonasera ci sente? buonasera 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 niente io innanzitutto sono un cittadino di San Lorenzo in campo quindi sono un po' fuori zona rispetto alla valle del Cesano faccio riferimento a un'eventuale riattivazione della guida ferroviaria Fanurbino che poi interessa anche il vostro territorio quindi potrebbe essere anche un'ottima cosa che diventi in futuro una bella metropolitana di superficie che possa collegare i paesi Tavernelle e Calcinelli con Fan che è la città diciamo leader di quella zona in questo lo dico in prospettiva futura poi la prospettiva futura che possa portare veramente alla riattivazione delle altre linee ferroviarie interne quindi io qui da San Lorenzo ho Pergola vicino quindi abbiamo la Pergola Fabriano chiusa da anni e tutto in un'ottica generale veramente di riattivazione di tutti gli anelli ferroviari nelle marche interne specialmente per voi che poi ecco per voi sarebbe un'ottima cosa questa di alleviare quello che è il traffico automobilistico lungo la superstrada quindi chi deve andare a Fano prenderà il treno non prende sempre la macchina in tasare tutto quello che gli spazi anche pubblici di parcheggio li a Fano grazie e buona serata grazie a lei crede che possa portare questi vantaggi? io sono figlio di ferroviere quindi puoi capire insomma qual è diciamo l'affetto che mi lega un po' all'idea della via ferrata o metropolitana di superficie come si può chiamare certamente però sono anche un ingegnere pragmatico nel senso che comunque quando si fanno dei progetti bisogna anche capire che tipo di risorse servono oggi le risorse per ripristinare la Fanurbino o che sia una ferrovia turistica o un metropolitano di superficie viste le condizioni attuali della linea ferroviaria rendono praticamente quasi impossibile pensare a meno che di un grande intervento dal punto di vista del governo che faccia una scelta in questo tipo di trasporti allora cambiano completamente le cose e allora quello che dice il signore è giatto cioè tutto inquadrato all'interno di una rivalutazione anche delle linee interne un ripristino delle storiche Pergola-Fabriano Sassoferrato i collegamenti con Urbino quindi quindi un progetto un progetto più grande se no vedo molto più pratica più fattibile l'ipotesi comunque della ciclabile che poi si faccia a fianco dei binari si faccia un tracciato alternativo benvenga qualsiasi soluzione che possa valorizzare il nostro territorio Da Postavecchia a Calcinelli ci vorrebbe un marciapiede come hanno fatto a Tavernele Lucrezia perché è pericoloso Via Nubilara è una via chiusa ci vuole mettere un cartello strada chiusa perché la gente insomma pensa che sia aperta ancora un'altra per lei ce l'ho qua zona Postavecchia via Gramsci c'è un capannone dove doveva nascere un supermercato che fine ha fatto Sindaco? No quella è praticamente la variante ex vetreria come tutte le varianti urbanistiche ha dei tempi tecnici ha un doppio passaggio in consiglio comunale che sono stati fatti con esito positivo poi è stata mandata in provincia per l'approvazione con eventuali prescrizioni e proprio in questi giorni è tornata dalla provincia senza prescrizioni quindi a questo punto i privati sono assolutamente in grado di presentare cioè di avere le autorizzazioni per partire con il progetto Via Novare non via Nubilara in via Venezia Calcinelli invece la strada è molto stretta e anche le case insomma ridosso della strada sono senza marciapiedi è possibile intervenire con la presenza del personale di Vigili Urbani i Vigili Urbani presidiano molto spesso quella zona perché dicono auto a forte velocità esatto peraltro sappiamo benissimo che l'incrocio a ridosso del del semaforo è molto pericoloso e ha avuto in passato insomma degli eventi anche molto brutti e tragici e per cui proprio quella zona è particolarmente attenzionata dai nostri Vigili Urbani certamente adesso il caso di via come dicevamo via Trieste e via Venezia insomma sono fortemente attenzionati dalla nostra polizia locale ma questa segnalazione insomma mi darà la possibilità anche magari di sollecitare un intervento più frequente ci scrive signor Luzzi di Fiori di Piano da circa 15 giorni è caduto uno specchio stradale in uscita dal passo condominiale privato numero civico 53 volevo sapere che cosa si deve fare per richiederne uno nuovo è sufficiente contattare gli uffici comunali per chiedere di chiestare lì mi pare che sia una strada provinciale per cui in questo caso ah la provincia penso di sì gli specchi sono autorizzati con autorizzazione provinciale bisogna capire esatto di chi è la competenza però eventualmente comunque il nostro ufficio tecnico è a disposizione per fare sopra il luogo buonasera siamo qui a ripetere l'importanza di un'illuminazione stradale in direzione saltara Bali completamente al buio l'unica location per eventi museo e planetario quindi ribadiamo sì questo concetto dell'illuminazione che quanto pare insomma forse sta un po' mancando da completare il tratto in questione è attenzionato tant'è che è inserito in uno dei programmi di ampliamento della pubblica illuminazione di cui parliamo spesso non solo quella zona lì ma ce ne sono anche altre in generale posso dire che abbiamo ereditato dal passato impianti veramente obsoleti che hanno una serie di criticità lo vediamo ogni volta che c'è un temporale o una pioggia un po' più intensa del solito i corpi illuminanti non sono più stagni quindi soffrono di umidità salta la corrente i quadri sono quelli che sono piano piano stiamo intervenendo un po' dappertutto quello che mi piacerebbe sottolineare in questa sede con l'occasione data appunto da questo quesito certamente è quello di capire che prima non c'erano magari le risorse oggi magari abbiamo più risorse ma siamo un territorio immensamente più grande 47 km quadrati di territorio 13.000 abitanti le esigenze sono tantissime e il personale è lo stesso ed è aumentato nell'ufficio il personale è sempre quello perché fondamentalmente siamo riusciti ad intervenire in quegli uffici in cui praticamente la situazione era veramente critica abbiamo ereditato un comune che aveva un solo tecnico nell'ufficio per cui con dei concorsi mirati siamo riusciti a rimpinguare un po' le forze in quegli uffici che soffrivano di più però prima di dare le risposte che si sono accumulate negli anni ci vuole tempo parlavamo del Bali sono curiosa di chiederle anche dal punto di vista culturale come sta procedendo perché ci sono state delle novità importanti in questi ultimi anni però anche qui la pandemia blocca un po' tutto sì la pandemia blocca un po' tutto il museo del Bali con le sue 55.000 presenze all'anno negli ultimi anni chiaramente ha sofferto più di tutti perché comunque sono crollate le gite scolastiche e per un museo di quella portata di quel genere è chiaramente come togliere linfa vitale però è anche vero che noi guardiamo con fiducia al futuro lo staff del Bali ridotto al minimo continua a progettare a pensare in positivo guardare in alto ed è per noi importante ed è anche uno stimolo tant'è che ci ha invogliato anche stimolato a pensare una soluzione innovativa nuova per tutta l'area la collina che noi chiamiamo la collina della scienza proprio insieme ai ragazzi del Bali in più in questi ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi a settembre abbiamo inaugurato la mos la sala dei mosaici di Saltara mosaici che dal 2014 giacevano per terra appoggiati a un muro e li abbiamo restaurati gli abbiamo dato una collocazione museale di alto livello li abbiamo arricchiti con dei contenuti con la possibilità di offrire ai visitatori dei contenuti multimediali il nostro pensiero di futuro per la cultura è concentrato su andare a sviluppare appunto contenuti multimediali da poter sviluppare e di cui usufruire anche in questi periodi perché oggi abbiamo la pandemia quindi innovativi per portare anche più turismo no? ma assolutamente il turismo oggi è un turismo completamente nuovo è alla ricerca di esperienze e noi dobbiamo poter offrire esperienze stiamo lavorando in certa sinergia con l'università politecnica delle Marche con l'università di Urbino con la sovrintendenza abbiamo fatto un accordo quadro sono cose molto molto importanti di cui magari al cittadino può sfuggire forse l'importanza però in chiave futura danno una prospettiva a questo territorio ed è questo molto importante mi raccontava prima di andare in diretta che proprio pochi giorni fa ha avuto un incontro invece con l'università politecnica delle Marche quindi collaborazioni che proseguono non vi siete fermati? no assolutamente anzi grazie a Simona che mi hai dato la possibilità perché questo incontro che c'è stato la settimana scorsa a cui io ho presenziato insieme a uno dei tecnici comunali e all'assessore Briganti è stato proprio per una cosa molto importante per la cittadinanza di Colla Metauro in particolare per la cittadinanza di Saltara perché è lo studio che noi ci accingiamo a commissionare spiegando di poterlo fare quanto prima all'università politecnica delle Marche per il rilievo del danno della chiesa di Saltara della chiesa della villa la chiesa della villa che è chiusa dal 2016 a seguito del terremoto ma che per Saltara rappresenta un valore estremamente importante e mi diceva in questo caso non c'entra nulla la diocesi non c'entra no perché quella è una chiesa comunale quindi è nostro compito intervenire io sono sempre dell'idea che è meglio non è importante fare tanto per fare spesso in passato la politica ha fatto qualcosa tanto per fare per far vedere io penso che è meglio aspettare e avere le idee chiare per poi fare progetti che sono progetti grandi progetti e che hanno un futuro e che hanno possibilità di dare una nuova vita a questi beni architettonici la Ciaverini di Montemaggiore invece quando sarà ultimata? la Ciaverini di Montemaggiore e i lavori che sono stati fatti in questi mesi sono praticamente terminati e siamo pronti per ricominciare a rinserire i ragazzi a scuola abbiamo temporeggiato in questa ultima fase perché sulla Ciaverini avevamo un progetto avevamo chiesto un finanziamento del MIUR e fino a che non ci è arrivata la conferma che questo finanziamento in realtà non era disponibile per questi immediatamente e praticamente abbiamo dovuto temporeggiare se no avremmo fatto i lavori in continuità questo non è avvenuto arriveranno probabilmente in una successiva fase di finanziamento nazionale per cui siamo pronti a riportare i ragazzi adesso non so vedremo di preciso in quale periodo chiedo al sindaco se via Carbonara Villanova è stata inserita nel piano asfalto e ci segnalano anche una dove ce l'ho qua la mancata copertura di cellulare tavernelli insomma quello lo dicevamo prima via Laghi zona Calcinelli se c'è un progetto per allargare la strada se ne era parlato tempo fa però in realtà lì già è abbastanza lì è abbastanza larga devono essere fatte probabilmente ancora delle le strisce che identificano le piste ciclabili però adesso di preciso invece per via Carbonara dovrei guardare l'elenco stasera purtroppo non ce l'ho perché non sono riuscito a passare in ufficio tecnico a farmi dare l'elenco preciso però certamente lo controllerò lo stesso via Vallato l'ultimo tratto a fiori di piano non è stato asfaltato come era promesso invito comunque a segnalare magari in ufficio tecnico oppure con una mail al comune i riferimenti li trovate in fondo alla home page del sito web comunale mandateci pure delle mail con le segnalazioni perché come ripeto in ufficio tecnico è presente un elenco delle vie da asfaltare per cui ogni volta che noi andiamo a creare diciamo a stanziare dei soldi ogni volta andiamo a vedere quelli che sono poi con i sopralluoghi andiamo a identificare le situazioni più critiche una bella proposta ci arriva da un altro telespettatore l'idea di dedicare una via una piazza piazzale o viale a Don Giuseppe Monaco sarebbe un bellissimo gesto sì adesso vedremo insomma nel senso io penso che si possa fare l'abbiamo fatto in passato per Don Giulio e penso che lo faremo anche per Don Giuseppe certamente alla prima occasione utile via della valle a Montemaggiore la strada provinciale sta franando e probabilmente tra qualche tempo non sarà anche più percorribile le cause individuate da una perizia tecnica sono conosciute dal comune da molti servizi dalla provincia il comune pensa di intervenire in qualche modo vi state interessando sindaco adesso questa situazione in particolare non ho conoscenza però certamente approfondiremo la questione soprattutto se come mi pare di capire insomma ci sono stati dei pregressi tecnici chiedono come mai non vengono incentivati gli autobus tra le località di Colle al Metauro c'è un traffico barbarico allora certamente l'idea di potenziare i servizi che noi abbiamo chiamato servizi trasversali perché oggi noi abbiamo un buon servizio per quanto riguarda la dorsale della via Flaminia quindi quella che attraversa diciamo trasversalmente il territorio comunale mentre non ce l'abbiamo per quanto riguarda i collegamenti ortogonali quindi quelli che vengono da Montemaggiore da Saltara a Cartoceto però il turismo e il trasporto chiedo scusa il trasporto pubblico è materia di competenza regionale c'è un monte mi spiegavano che c'è un monte ore e un monte chilometri complessivo all'interno del quale poi bisogna muoversi e quindi non sempre facile per queste piccole località riuscire a ottenere di più di quello che già si ha a disposizione ultimo in due messaggi perché siamo in chiusura le dicono signor sindaco per l'implementazione della pulizia delle vie del centro di Calcinelli in particolar modo dopo il mercato del mercoledì che prima del suo insediamento era molto carente e ancora la zona Gambarelli se è possibile dotare di illuminazione essendo una strada immersa nella natura anche molto utilizzata dai pedoni per le passeggiate eccetera e il campo di posta vecchia se si può fare qualcosa per poterlo utilizzare il campo di posta vecchia adesso siamo dunque come tutti gli impianti sportivi sono soggetti a una particolare attenzione da parte della nostra amministrazione e proprio di questi giorni mi diceva proprio l'assessore ai lavori pubblici il completamento diciamo del progetto esecutivo per il risanamento della tribuna dei calcinelli del campo sportivo un intervento atteso da anni che siamo ben contenti insomma di aver progettato e adesso speriamo un po' di appaltare quanto prima gli impianti sportivi sono molti e certamente vanno valorizzati le risorse sono quelle che sono cerchiamo di lavorare in sinergia anche con i comuni vicini perché questo discorso di unione soprattutto per quello che riguarda alcuni servizi come appunto sono gli impianti sportivi possono certamente dare più possibilità alle nostre amministrazioni dicevo Sindaco che purtroppo siamo in chiusura però ricordiamo i suoi concittadini lo sapranno benissimo ma ci sono tanti altri telespettatori che ci seguono in diverse zone della provincia e anche al di fuori il prossimo prossima primavera aprile maggio giugno probabilmente si andrà alle elezioni i cittadini dovranno tornare alle urne non è detta perché dipende anche dall'andamento della pandemia lei si ricandiderà? domanda da un milione di dollari non lo so quello che dico sempre è che la nostra amministrazione come dicevo prima è nata in un contesto molto diverso da quello di oggi però in quattro anni io penso che abbiamo camminato tanto siamo maturati tanto siamo sicuramente in grado di esprimere una continuità amministrativa nella migliore delle forme possibili il candidato sindaco ritengo sia poco importante quello che è importante sono le idee saper mantenere lo sguardo alto e andare avanti con fiducia sogno un accoglio al metauro solidale unita e un posto dove si sta bene lei comunque ha sempre mantenuto anche il suo lavoro un ingegnere lavora per ASET SPA e quindi è riuscito a conciliare sì con fatica con fatica il lavoro la famiglia sono comunque cose che comunque prendono tempo però quindi ancora non ha deciso ufficialmente se si ricandiderà però si parla non è importante quello che farà Andrea Giuliani è importante quello che farà la squadra che farà questa amministrazione sono convinto che come dicevo prima siamo cresciuti tanto io chiedo scusa a tutti i telespettatori perché continuano ad arrivarci tanti messaggi purtroppo siamo in chiusura quindi vorrei ringraziare la regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra e ovviamente a lei per essere stato nostro ospite sindaco grazie a voi per l'invito è stato un onore grazie ancora ad Andrea Giuliani vi ricordo che l'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa e quindi i quotidiani letti dal nostro direttore Marco Ferri buona serata a tutti voi grazie a tutti